Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come dicevo, la importanza della fedeltà alla chiesa di Dio. Se qualcuno della tua famiglia non prega, prego tu. Se qualche sacerdote della tua parroca insegna qualcosa contrario alla fede, insegna la verità di Dio. Noi siamo catòlici. Noi siamo catòlici. Noi siamo catòlici. Perché Gesù ha insegnato questo. E di forma perfeita. Noi siamo catòlici. Per insegnare la fedeltà di Dio. Quindi, ragazzi. Quindi, ragazzi, succeda quello che succeda. Non lasciate la chiesa. Non lasciate la chiesa. Perché Gesù non lasciate la chiesa. Perché Gesù non ci ha mai lasciato perdere. Immagina la sofferenza di Gesù in croce. Ma lui è andato fino alla fine. Dico a voi. E come tutta la malattia. Quindi, vale la pena si esforzare per vivere nella grazia di Dio. Quando la Madonna dice, tutto in questa vita passa. Noi sappiamo che passa veramente. Quando morremo, non ci leviamo a nulla della vita. Tu puoi essere la persona più ricca in questo paese. Il mio corpo e il suo corpo pareci questa vita. E il mio corpo sarebbero per vivere nella sepoltura. E il nostro corpo sarebbe nella presenza di Gesù per essere giudata. E la nostra anima arriverà davanti a Gesù per essere giudicata. E staremmo davanti a un giusto giudice. E il nostro corpo sarebbe davanti a un giusto giudice. E la Madonna dice qui che cada uno riceverà conforme il suo procedere nella vita. che ogni uno riceverà in base al proprio atteggiamento della vita. Quindi, se io e io percebiamo che pecciamo, se tu o io ci rendiamo conto che abbiamo peccato, la Madonna dice, pente di me. Il nostro correttore rappresentare grazie a Gesù è la stessa. E l'arprezzamento è il primo passo attrata della santità. E l'arprezzato è il primo passo attrarso quando è stata della Santità. E l'arprezzata alla santità è la giudicazione a insegnarsi di confezionare. E l'arprezzato alle, a guadre all'arprezzati di confezionare che ti perdona, non è sacerdote, è il proprio Gesù, attraverso la sua chiesa, l'anima è pulita dopo una buona confezione. Interessante che la Sra. dice che non è scontate nessuno dei vostri peccati, a volte siamo tentati e a volte comete un peccato e il padre e il sacerdote della nostra parrocchia è nostro amico e a volte il demono ci tenta di non raccontare per il peccato. Diciamo che qualcuno ha 5 peccati. Tu vai al confessionario, racconta 4 e nasconde uno. Tu hai invalidato tutta la confezione. Tu hai fatto tutto di nuovo. E ora che tu hai arrivato lì con 5 e ti devi fare con 6. E ora che tu hai arrivato lì con 5 e ti devi fare con 6. Se, per esempio, un criminoso for sacerdote regla al crimine che cometeva, se, per esempio, un criminale va da sacerdote racconta il suo peccato, il sacerdote non consuma. Existe alcuni paesi che già começano a tentare di lavorare per evitare le segreti della confezione. Guardate come il demono sta agendo. Ma il peggio è che ci saranno persone nella chiesa che saranno d'accordo con questo. Questo è terribile. E la mamma pat MA dice che non vieni stare alla rivialistia senza cercare la misericordia di anda. La mamma pathen sta a condividere la rivialistia senza arreffа di anno. Quindi, non vieni stare alla riviali senza stare in stato di ragione. e lei a Roma ho detto alle persone che quando sono in chiesa marito e moglie a signora nel momento della comunione se lei vuole comunicar è preparata ma non costringi mai il tuo marito ad andare a fare la comunione se lui non vuole andare è perché non è pronto e non ritirà con lui ci sono donne che perché il marito non è andato alla comunione dice cosa hai fatto che hai sbagliato tu mi devi dire cosa hai fatto che hai sbagliato io ho visto tante volte questo ma io ho detto come signora lei non è un sacerdote il suo marito deve raccontare il suo peccato al sacerdote il marito non deve raccontare il peccato alla moglie è solo Gesù che deve sapere ma non si per la vergonia di questo ma non hai vergonia di questo você tena a unidade a un'unità se una persona è riscidata se una persona è riscidata fa un esame di conscienza fa un esame di conscienza ha visto che ha comito qualcosa di scurriato deixa o ovo fare lo che quiser non offende a Gesù procura il sacerdote e confesse per poi scegliere il palestia la Madonna ha detto che Gesù è presente in palestia corpo, sangue, anima e divina lei non porta nessuna novità perché questa è la dottrina cattolica dico a tutto il popolo d'Italia che l'eucaristia nella Chiesa Cattolica è soltanto per chi è cattolico perché ci sono delle autorità in Italia che vogliono dare la comunione a chi non è cattolico non si può non si può non cattolico non cattolico non cattolico noi come cattolico daremo la nostra testimonianza defenderemo Gesù nella Eucaristia perché la Madonna ha detto che la presenza di Gesù nella Eucaristia è una verità non negoziabile non cattolico non cattolico voi stanno vedendo la confusione che c'è qui in Italia nella Chiesa non deixe che questo mexa nella sua fede non lasciare che tutto questo toque nella tua fede aprenda una cosa qui in Italia e nel mondo intero qui in Italia e nel mondo intero vai existir sacerdotes e bispos existiranno sacerdote e biscoli che vanno rappresentare la verità di Gesù e queste persone vanno faranno ciò che è giusto la sconfitta verrà per la falsa Chiesa la Madonna ha detto che esiste una falsa Chiesa dentro la Chiesa Cattolica ma come posso identificare? semplice dare l'Eucaristia a tutti per falsa Chiesa dire che il diavolo non esiste è dottrina della falsa Chiesa inferno non esiste dottrina della falsa Chiesa e così avanti è soltanto avere il Catechismo dentro di casa e seguire se tu hai il Catechismo di San Pio X e di Giovanni Paolo II potete guardare e seguire tranquillamente qual è l'Eucaristio e l'Eucaristio qual è l'Eucaristio che esiste a tutti qual è l'Eucaristio non è l'Eucaristio perché se noi che siamo di Dio lasciamo perdere adesso i nemici vinceranno la Madonna dice il silenzio dei giusti fortalece i nemici di Dio come una persona è catolica vede le cose che succedono in modo sbagliato e resta in silenzio e non ho detto a voi di provocare scandalo perché questo non è di Dio ma tu puoi chiamare quella persona in particolare sia il padre, il bispo o il papa non importa chiunque nel Dio 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 abbiamo l'obbligo di parlare di manifestare i pastori sbagliati ciò che fa di male la cosa allora se c'è qualcosa di sbagliato è preciso corregir ma per fare questo ma per fare questo perché ciò non è di avere forza espirituale ma per fare questo la Russia e l'Ucraina e l'Israele che è in guerra adesso ma la nostra guerra è peggio perché la nostra guerra è spirituale noi non c'è bisogno che andiamo armati per uccidere nessuno ma la nostra arma è la verità di Dio la nostra Sra. dice qui che la verità sarà la nostra arma di defesa la luta è contro i principali i poderi espirituari contrari a Dio la nostra Sra. dice qui che la verità sarà la nostra arma di defesa la luta è contro i principali che sono contro i principali la nostra Sra. dice che la grande arma di Dio può far credere come non esistere portanto, i miei fratelli facciamo ciò che è giusto se siamo cattolici se non è cattolico se non è cattolico perché molta gente reclama da Igreja Cattolica perché tantissi lamentano della Chiesa Cattolica perché la Chiesa Cattolica è molto radicale ma Gesù è radicale ma Gesù è radicale ma Gesù è radicale da Cessio per il Cessere e da Dio per il Dio e da Dio per il Dio dici quando for sì non è qualcosa come non è sì quando è sì e non quando è no la autorità della Chiesa stanno cercando di aprire le porte stanno desafiando a Gesù e il loro fine non sarà buono la mia donna ha detto una messaggia di lei che coloro che si comportano come Giudano per il stesso fine e a gente sacò fuori di Giudano Giudano non si salutò è buono che a gente rezi pregiamo per i consagrarti che i loro dei per Roma che i loro che era lì, che pregasse per i morti io credo che Satana ha mandato tanto demonti per incontrare Roma questo periodo di sì perché il Dio vuole tentare i consagrarti per cambiare le verità di Dio ma voi potete dire ma sarà che i potete ma sarà che i cambiare la proposta se vai ser ora io non so ma nostra Sra. di Senguera ma la 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 nostra Sra. di Senguera che i loro omitri perversi che gliaurietro cambiano le le divin che gli stai ascolti perchè ci siete a withdres non ha paura di perdere ciò che passa perché la salvezza è più importante se la tua parrocchia è bella e rica questo non interessa a Dio quello che importa a Dio è che tu insegni la verità perché possiamo avere un tempo meraviglioso ma se dentro questo tempo non è la verità che viene dita Gesù non è lì nella sua parola allora è meglio predicare sotto un albero noi sappiamo che molti consagrati sono stati ammigati e che gli ammigati sono i proprii superiore qui in Italia ci sono molto esattivati con paura tu che mi stai ascoltando non ha paura non è stato né il Papa né il Bisco che l'ha scelta non è stato né il Papa né il Bisco che l'ha scelta che l'ha scelta per essere il sacerdote che l'ha scelta che l'ha scelta se non crede in questo sai da Igreja perché Gesù ha bisogno di uomini di coraggio Gesù non prometeo pietra di rossa per noi Gesù non ha prometto pietra di rossa io sono un laico voi pensate che è facile per me io sono una persona in Brasile penso che io vado un giro per il mondo e troco un cambio di qualcosa penso che io ho pagato qualcosa per uscire dal Brasile io non voglio andare al inferno io offro la mia missione a Gesù e alla Madonna io voglio soltanto la recompensa che viene da Dio io solo dico così io dico soltanto da te soltanto un posto dove dormire e dove mangiare e oggi ho mangiato bene a casa di Rosano e dormi bene anche lì a casa di Rosano e io ti parco per me accolher di nuovo io ti recompensa per avermi accorto io agradeço logo a todo il mondo che sta involvito nella organizazione dei conti io ringrazio tutti coloro che si danno da Paglia per organizzare questo incontro io corro dietro alla recompensa di Dio come un atleta che corre dietro alla Paglia come un atleta che corre dietro alla Paglia ma come si già immaginato per cui credo si già immaginato la benedizione che la nostra Sra.Guarda per causa di questa missione a voi e a me voi immaginate la benedizione che dà la Madonna a questa missione a me e a voi pensate in questo 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 e accolher la benedizione di Dio noi siamo peccatori ma la nostra Sra.Guarda per la Madonna ti ama lei è Dio perché viene dal Cielo per l'amore nostro allora la nostra recompensa è il Cielo tutto qui è passagero perché possiamo amare che possiamo amare i nostri Sra.Guarda e non escondete la verità da nessuno io vorrei molto che non dice certe cose nelle mie pregazioni ma non posso esconder la verità ma non posso escondere la verità ma Dio dice non scurrate la verità a costo di una falsa carità perché se vede che io ho scurrate a volte se tu vede che non erano mi ha spagato allora io dico quando Pedro è mio amico se io dico lui si offenderà è meglio che mi dici amare dicendo la verità e lasciarmi senza di me perché se tu mi vede spagato e non dice nulla può essere che io sono dell'errore e dell'errore se tu che è di Dio mi vede errato mi corrija perché se non mi corregi io posso perdere la mia alma quindi non non fala la verità non è carità nostra Sra ha già pensato su questo quindi questo giorno è il giorno che Dio ha scelto per noi io non merito nulla ma oggi io dico che la Sra mi trouxe a Italia di Italia io venho senza sapere che succederà ma dopo l'incontro io dico adesso ho capito perché Dio mi ha fatto venire io non sa qual è la grazia che voi che siete qui e che mi state guardando la vita di sonno io sono della Madonna quando benedice ci porta tutte le grazie per la nostra vita allora vale la pena cercare questa grazia io sono però non è facile vivere ma vivere in questi tempi molte persone hanno difficoltà anche nella come ho detto in l'inizio a sposa è di orazione ma non è scritto il per chi reza non pesante ma non si non di orazione se il suo marito non è viola se il suo marito non è di preghiera lei prega il rosario tutti i giorni ma se il marito non prega allora ti dò un consiglio convite il suo marito per pregare un'ave maria soltanto penso che un'ave maria non la dà quando il reza quando l'intervista potete dire 건el potete fare il ciò che stava faggando potete fare il ciò che stava faggando quando for a manià faça le stesse cose quando il ciò che stava faggando Lexare che stava faggando chate il mio primo prega il mio padre Maria a Deus abençoe la nostra vita pregare il suo marito a Dio sempre Io sono sicura che lui l'ha accettato. Perché lei non ha chiamato, perché non ha chiamato. Anzi, visto che non deve nemmeno chiamato. Se tu sai che è il marito che non è di preghiera e non ti insistere, è meglio fare un lavoro piano piano. E quella di Ave Maria soltanto, perché ogni Ave Maria che preghiamo, l'ambiente diventa pelle dello Spirito Santo. Perché noi stiamo ripetendo le parole di Dio attraverso l'Ave Maria. Quando il suo marito sta dicendo l'Ave Maria, tu preghi a Gesù che tocca il suo cuore. Quando, dopo che ha finito, dica che tu ti possibili per la sua strada. Io ti garantisco una cosa. Se a signora fissi questo ogni giorno, non vai demorare molto per lui di reclamare. Dopo poco tempo, non ci vorrà che lui ti darà. E lui vai reclamare e vai dire, perché tu ti preghi a Gesù che è solo una? E ti dirà, perché il Dio mi chiede di pregare un'Ave Maria soltanto? Significa che lui già sta querendo pregare di più. Ma ora, quando il Dio si lamenterà, allora lo farà pregare di più e di più. Lo sentirà qualcosa di Dio. Se una famiglia non ha insegnato la famiglia a pregare di più, il tuo nome si va a cambiare con fiducia, chiamando per la Madonna, e la Madonna le darà la grazia. Quando la Madonna farà questa sera, chiedere per la tua famiglia. Se c'è qualcuno malato qui, tu dirai alla Madonna, nel silenzio del tuo cuore, oh mia madre, faça colmi, o che a Sra. fez naquele casamento. Basta questo. Perché nel casamento, quando il Dio si rincava, il Dio si rincava e il Dio si rincava. La Madonna che so di sere, il Dio si rincava e il Dio. Possa sempre oggi, il Dio che ti ha bisogno, il Dio si rincava e il Dio si rincava. Non sto dicendo del Dio che si bebe. Io sto chiamando di Dio, la grazia che ci si rincava. Io non sono venuta del Brasile per realizzare il prodigio per l'Italia, perché, così come voi, bisogna essere abençoati. Noi siamo un gruppo di tecnologie, ma noi vogliamo il Cielo e la Madonna ci darà il Cielo. Se tu e io confiare nella Cielo, la Madonna ci darà il Cielo, ma sia dolce, perché la prende questo. Sere dolce ai tuoi adeus, sia dolce ai tuoi adeus, sia dolce ai tuoi adeus. Se faremo questo, se facciamo ciò che lei ci dice, tutto sarà meraviglioso nella nostra vita. Allora, apriamo il nostro cuore, affinché questo giorno non sia mai previsto e meritato da loro. Questo è il primo incontro qui a Pescara. Qui è il Sombra di Pescara? Il Sombra di Pescara. Il Sombra di Pescara. Pronto. Domani ci sarà il incontro al centro di Pescara. Pescara avrà un privilegio grande, perché ho organizzato due incontri. E quando io vi un'avvio, io dico, mia nostra Sombra, levi che ci sono incontro per almeno una persona. Perché se io ci fosse solo la Sombra, non mettere un bambino in mia mente. Io e la Sombra di Pescara avremmo parlato a noi stessi. Gesù dice, no Cielo ha più felice per un peccatore che si converte. Perché per il momento il nome giusto non bisogna di conversare. Ma la Madonna non ha portato una persona soltanto. Ma ha portato tutti quanti voi. tanto qui come lì e lì a Roma. E così sarà il Pescara. Domani. Sarà dopo di domani là in Napoli. E dopo domani a Napoli. A Napoli ci sono stato qualche volta. E io ringrazio il Dio che mi ha portato per l'Italia. e prima che mi dimentico voglio ringraziarvi per la bena fede che avete. Perché se voi siete usati da casa sono persone che vengono per due ore, tre ore di viaggio. Ma cosa si deve fare? Se tu non hai fede sei falso. ma è che quel problema. Quando ci sono qui per l'Italia. Quando ci sono attenzione oggi? Ressorti Regis. Ressorti Regis, né? Ressorti Regis, né? Non sợi a tua cosa a direzione. quando usciremo da quella porta lì nessuno deve uscire come entrato perché la Madonna darà una grazia, una benedizione e non è soltanto per voi ma anche per coloro che stanno a casa a gente deve lembrar della esposa che non stava della esposa, dei figli, dei figli di amici, della esposa che non è presente dei mariti, dei figli una cosa interessante io voglio parlare ma io voglio parlare ma io voglio parlare ma io voglio parlare ma io voglio parlare di soltanto una cosa quando Nossa Senhora appare quando una Madonna appare io le mando in ginocchio la prima cosa che lei fa benedice le persone che sono presenti e anche coloro che si stanno guardando dopo che la Madonna appare dopo che la Madonna appare benedice gli oggetti che abbiamo con noi e dopo che lei ha benedetto io la lascio qua nel braccio terza cosa lei detta un messaggio e perché la farla dopo lei parla e io scrivo dopo vederti dopo che la Madonna appare dopo che lei si compare io mi alzo e levo questa messaggio in questo stesso microfono nostra Senora è bellissima la Madonna è bellissima non esiste la terra nada che si compare non c'è niente questa terra paragonare per il revedere l'ultima in Roma qualcuno mi ha detto qual è la cor di nostra Senora e io la Roma mi ha detto che coloro è la Madonna io dico la Madonna è chiara ma io guardo a voi per lì tutti questi è di chiara ma la tonalità di pelle della Madonna io non ho mai visto nessuno voi siete bellissimi ma la Madonna è la luce davanti a noi l'altra cosa che mi encanta è la sua umidità qualsiasi mamma che è qui se qualcuno tratta male il tuo figlio voi lì è arratato qualsiasi mamma è così immaginate che nel mondo noi abbiamo più di 7,5 bilioni di persone e tutti i giorni più di questi 7,5 bilioni volvete a fare la persona e tu mi ha detto il suo messaggio e il suo messaggio e il suo messaggio il suo messaggio il suo messaggio gloria a chi gloria al Pai o Filho e Espírito Santo gloria al Pai gloria al Pai o Filho e Espírito Santo gloria al Pai oh meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo O Maria concebida sem pecado Glorioso São José Segundo mistério contemplamos A flagelação de Jesus atado a coluna Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Amém Amém Ave Maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Terceiro mistério Amém Amém Ave Maria cheia de graça Amém Amém Ave Maria cheia de graça Amém 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 Ave Maria cheia de graça O Senhor é o fruto do vosso ventre Amém Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Amém Amém Santa Maria cheia de graça Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Grazie a tutti. 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 Speriamo, genente, per la gente in questa valle dell'Africa, o so su tutto, per un po' parte nostra. E noi ci hanno detto, ora di voi, Gesù, e mostraci dopo questo esistito, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, ovviamente, o via, o doce cederci in maniera. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Tu sei benedetta fra le donne e benedetta è il frutto del tuo segno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Grazie a tutti. 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 per noi pregherò il Dio Gesù per voi per me questa parola di Nossa Senora è una ricchezza grandissima come ho detto all'inizio noi torniamo a casa con il cuore pieno di gioia perché la Madonna viene per benedirci che Dio ti benedicare io sono i disperditi i ragazzi che stanno ci accompagnando grazie e amano la con sempre di pescara a gente se incontra a 8 ore da noire e ai no Brasil amano a 8 ore da manhã il nostro momento in catequese che io ancora devo gravare a noi di Dio Paz e ben Ave Maria e grazie a Dio e a Ponte tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo senno Gesù salta a Dio e grazie a Dio e grazie a Dio e grazie a Dio tu sei benedetta fra le donne grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio